Con Nicola Madonna, Nicola sei un po' il nonnetto di questo ritiro, il tuo quarto con le aquie. Sì, quest'anno è il quarto, ogni anno è sempre un'avventura nuova e speriamo di proseguire sulla strada di miglioramento che abbiamo fatto in questi anni. Il prologo di questo ritiro, questi tre giorni a Spezia, non proprio leggerissimi? Sì, siamo partiti forti, al mister piace fare tanta corsa ma con la palla, quindi si fatica ma ci si diverte anche, lavoriamo bene. Che gruppo si sta creando le tue prime impressioni? C'è un gruppo di una decina di ragazzi che si conosce già dall'anno scorso, stanno integrando qualche ragazzo nuovo, sta diventando una squadra, tra virgolette, un po' internazionale, cercheremo di fare integrare tutti al meglio. Ecco, come ci si approccia ai nuovi? Magari problemi di lingua, però c'è chi ha detto il calcio è un linguaggio universale, non ci sono problemi. Sì, magari all'inizio ci sarà magari qualche piccola incompressione, come normale che ci sia. I ragazzi nuovi, soprattutto quelli che stanno negli, dovranno imparare bene la lingua, ma comunque vivendo qua si faranno la svelta. Poi sul campo, per quello, non c'è nessuna lingua. Quale stagione si aspetta Nicolò Madonna, a livello personale e di squadra? Ma a livello di squadra, che è la cosa più importante, sicuramente, come ripeto prima, di migliorare quello che abbiamo fatto in questi anni, o quantomeno di raggiungere l'obiettivo che siamo riusciti a raggiungere l'anno scorso, sarebbe già un grande traguardo. A livello personale, di riuscire a allenarmi con continuità, quindi dopo il resto si mi alleno con continuità e vien da sé. In bocca al lupo. Sì. Ciao.